Dinamica di Tagliacozzo e Pescara Promotion sono le vincitrici per la regione Bruzzo della Call to Action, le buone notizie dello sport. L'iniziativa promossa da Estra SPA Multi Utility del settore energia è dedicata alle associazioni che quotidianamente si impegnano per valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport. Alla Pescara Promotion e alla dinamica una targa e un contributo economico. I rispettivi presidenti Simone D'Angelo e Roberto Buzzelli. È un premio che vi riempie d'orgoglio questo no? Sì ci riempie d'orgoglio perché quando si viene premiati per aver espresso al meglio il connubio sport e cultura ma soprattutto sport e inclusione sociale penso che la soddisfazione sia massima perché lo sport è veramente il mezzo per eccellenza per includere in quanto persone che appartengono a diversi seti sociali possono giocare insieme, possono divertirsi insieme, non ci sono preclusioni e se non chi è più forte e chi è più debole insomma quindi però l'importante è divertirsi e fare gruppo. In questo progetto abbiamo messo, abbiamo inserito tutta l'attività che abbiamo realizzato nel periodo maggio settembre del 2021 l'anno scorso, un periodo particolare, un periodo complicato perché tutti i ragazzi venivano dalle vari blocchi creati dalle problematiche relative al coronavirus. A fine lavoro è venuto anche questo premio che ci gratifica tantissimo. Menzione d'onore per la muevete amico di Spoltore, presente l'amministratore delegato di Estra Francesco Verniani, dunque sport sociale con nubio perfetto tuttavia lo sport deve capire che le generazioni stanno cambiando. Oggi parliamo infatti di generazione Z. Roberto Ghiretti e il presidente del CONI e Bruzzo Enzo in Bastaro. Generazione Z che è una generazione completamente diversa da tutte e che ha imparato a dire di no. Non è che non fa sport ma lo fa come vuole lei. Non è che non segue lo sport ma lo vuole seguire per highlights, per pillole. È cambiato il mondo. Viceversa è anche l'occasione di mettere in luce le buone pratiche di società che hanno capito la necessità di diversificare l'offerta, che è che il loro successo non dipende da una palla dentro o fuori o da un centesimo avanti o indietro, ma dipende dalla loro capacità di permeare un territorio, di essere parte integrante di un territorio. Per questo progetto sono state presentate 31 proposte, veramente tutte notevoli, tutte finalizzate all'inclusione dei ragazzi attraverso lo sport che è fondamentale, specialmente in questo momento, in questa società un pochino complicata.